ma mostri nel cocci numero i love this little hotel we're staying at called acta mimic this is the washroom so nice very modern let's take a look at the outside not much to look at two twin beds and a toilet here it's on the front side it's on the front side it's on the front side nope it's the back it's on the front side it's on the front side but it's so good This is our room Oh, the shower is right at the door Interesting And There is Oh, the washroom right here, the toilet And then there's a curtain Ooh, that's a cute room Oh Cool This is much nicer than the That's it We are having our first dinner on the cruise At the Manhattan restaurant We're watching a movie by the... Is that the end of the ship? Yeah Yeah, the end of the ship Potato skin crab salad It's like those little... It's like those little... Popcorn And this is... Apparently Chicken pole Lamb With uh... Pequant This is the fried chicken I'm scared I can eat this whole leg Or hunkale And this is fish and chips In France Yeah The One eler Bell At the end of the airport I'll Well I got to point you to the entire His gosh And then To the A paragraphs Il palazzo rosso è il palazzo, la residenza dell'ultima dynastia, il King Sao Naples, la borbocca, tra il mercato, come in Pampè, la nacellum, il mercato e il termo vats. Questa è un'eruptione che era in un tempo prehistorico di 13.000 anni fa, in cui era fondamentale la città di Pampè. Questo è tutto il materiale che è erupato da Pampè, dove siamo ora. La piazza era più alta. Ci sono anche alcuni tombi nella piazza. Il primo è il crato di Pampè. La piazza di Pampè. La piazza di Pampè. La piazza di Pampè. In fronte di noi abbiamo un grande teatre, che è supportato da queste persone. Queste sono tutte le persone. Le persone che supportano le bianche della balcone. Ci sono anche le celli. Ci sono tutti i primi. Ci sono le città di Pampè. Ci sono le città di Pampè. Ci sono i primi. Ci sono i primi. C'azio. Ci sono i primi. Buongiorno. e quindi per combattere gli altri sono diversi questo è stato un grande teatro per più o meno 5,000 persone e questo è stato un teatro per le donne un teatro per le donne senza uomini con uomini, con uomini si può sentire qui ma con uomini si può sentire qui questo è un teatro per la middle class perché il piccolo teatro è esattamente il stesso che il piccolo, ma il piccolo e potete vedere l'originale decorazione della walla con l'albero con l'albero, con l'albero con l'albero, con l'albero con l'albero, con l'albero ma anche l'albero, con l'albero questo è un pollo questo è stato un pollo potente potente questo è stato un pollo qui 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 con l'albero 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 modificazione inoltre con l'albero con l'albero avevano la città e la toilette molto vicino per usare la stessa sceglie quindi era meglio di usare ma non è un mix of the smell non è un mix of the smell la stessa sceglie usavano la città in la città per accedere i luoghi i due luoghi che avevano erano due luoghi questa era solo l'entra la città si è riuscita la città si è riuscita ilshirt� per l'erceologo con la città e si ritornavano un flotto antico di una casa del terzo secolo in B.C. Ci sono due secoli tra questo flotto dove siamo. Questa è un signo per arrivare il brotto che è in questa direzione. La water flows from the mouth of this statue. That is a statue of Godova. The water flow directly on the street. In the exact position in which they die. An archeologist called Giuseppe Fiorelli had a great idea to inject liquid plaster inside the cavity. This was all a temple surrounded with a marble columnar. The marble is not here because it was stolen during the time because it is outside the city. So unfortunately we cannot see the original marble decoration of this temple. So this is the wall decorated in marble. All out. So we're in Naples, Italy, walking around the town, looking for some pizza and some coffee. We'll see you next time. Thank you.